Anche voi vedete insieme a me ragazzi quello che vedo io davanti ai miei occhi non ci credo avremo un nuovo mostrillo Oh mio dio da quanto tempo aspettavamo di averne uno ragazzi finalmente è arrivato mamma mia benvenuti e bentornati a questo nuovo video Ma che ne sa io ragazzi vorrei subito mettere qua cioè non me l'aspettavo proprio Vieni qua campioncino da oggi poi verrai battezzato come mostrillo no 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 noi iniziamo sei proprio un mostrillo eh Mostrillo 2.0 ciao campioncino ragazzi finalmente siamo riusciti a ottenere un bellissimo E' incredibile mostrillo 2.0 e quindi oggi andiamo a salutare campioncini fuori da casa e quindi noi abbiamo oggi Enrici Nick e Davide che hanno commentato lo scorso video con l'hashtag minecraftita e quindi mostrillo io ti lascio stare ti abbandono me ne vado direttamente a casa Perché ragazzi perché dobbiamo andare subitissimo innanzitutto a salutare Olly che è il nostro campioncino supremo Olly buongiorno come stai spero tutto quanto bene i commenti l'altro giorno hanno fatto un putifero ragazzi Tantino mi ha dato un nuovo saluto per Olly tipo ciao campioncino supremo come stai spero tutto quanto bene E cose così super 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 divertenti Adesso voi ragazzi mi dovete dire perché Olly secondo voi è più bello di Coco Voglio una battaglia suprema tra Coco ed Olly nei commenti A parte che stavo rischendo di morire comunque Allora ragazzi abbiamo un po' di cosa a fare oggi perché dobbiamo rispondere a uno scherzo che mi ha fatto quel campioncino in Stefano Ma le frecce si fanno... no fermi un attimo ma le frecce non si facevano al contrario Va bene allora facciamoci un bel po' di stack di frecce anche se in realtà in questo arco qui abbiamo mending e non abbiamo infinity Quindi facciamo una cosa ragazzi le spikes ce le abbiamo le frecce ne abbiamo quattro stack e secondo me vanno più che più che bene A noi in questo momento servirebbe veramente tantissima cobblestone Signor Claire non ho una name tag da darle Buongiorno Allora perché abbiamo bisogno di tutta quanta questa cobblestone? Perché tecnicamente le trappole che noi vogliamo attivare oggi sono queste qua le ventole ragazzi Sono delle cose veramente bellissime che non ho mai craftato in Minecraft Però in questo momento a noi servirebbe della redstone che non credo che abbiamo Perché è uno di quei minerali che non raccolgo quasi mai Ma è più che altro per inutilità cioè mi serve sì ma ogni tanto la redstone quindi qua ho qualcosa Nooo Qua in alto ho qualcosa qua in alto neanche qua in alto Allora ci sarebbe un piccolo rischio che noi dovessimo Andiamo a prenderci da redstone in miniera ragazzi Da quant'è che non vado in miniera nella big vanilla? Da un bel po' di tempo comunque quanta redstone ho appena preso? Sette pezzi rompendone solamente uno Allora facciamo che distruggiamo un pochino tutto quanto Sarà molto dura ma devo trovare assolutamente la redstone il più in fretta possibile Eccola qua guardate qua che bella che è Credo che già questa qua ci basti in realtà dovremmo craftare un bel po' di blocchi di redstone Perché è solo grazie ai blocchi di redstone che possiamo attivare le super ventole Eh signor creeper può esplodere grazie mille è stato gentilissimo Allora prendiamoci anche questo lapis e mi sa che c'è anche dell'altra redstone qua sotto che avevo già visto prima Buongiorno signor zombie spero che Ma l'abbiamo shottato così Ok raccogliamo anche questa redstone così riusciamo un attimino a craftare i nostri blessing blocchi di appunto redstone o pietra rossa chiamatela come volete Troppiamo un po' di cobblestone che ci servono altri pezzettini E voi mi direte Marco ma perché vuoi fare uno scherzo alla big regina e quindi conseguenze anche a steffo Perché non ho ancora capito ragazzi se lo scherzo che mi fece a steffo fu ideato prima dalla big regina e poi fatto da steffo Oppure fatto direttamente solo da steffo o dalla big regina Quindi in realtà ragazzi bisogna proprio di difendermi da questo attacco incredibilmente potente Allora facciamo così craftiamoci questi blocchi e quindi non so poco da fare ragazzi a questo punto detto Posso fare uno scherzo che possa prendere entrambi ma senza utilizzare le spikes anzi potremmo utilizzarle Ma la cosa più divertente sarebbe riempire casa loro ragazzi di questo blocco qua di redstone con queste ventole Perché guardate quanto sono potenti Tecnicamente ragazzi io da ora in poi non posso più scappare Per esempio quanto sarebbe divertente io non riesco a muovermi ragazzi ve lo assicuro Cioè in avanti non si può muovere E pensavo potrebbe essere super divertente poter mettere per esempio queste ventole all'ingresso di casa loro E un po' in giro anche per tutta quanta la casa Allora ho detto lo faccio in video così vediamo così con i campioncini nei commenti Poi in realtà mi servirebbe anche prendere del legno Perché prima di andare da 7fere volevo utilizzare un po' di legno della zona del big ladro Perché vorrei imparare a fare qualche crafting e provare a testare e vedere sul tetto di questa zona qua della casa come stava Perché voglio dividerla a casa utilizzando da questo lato solo legno della zona del big ladro E da questo lato solo legno normale di minecraft E se non mi sbaglio avevo messo ultimamente quel legno Eccolo qua da queste parti Lo droppiamo un po' di cobblestone qua dentro anche se non è la sua cassa E proviamo un po' di crafting altrimenti di questo legno Perché l'ultima volta non ci siamo soffermati più di tanto Vediamo quanto sono carini innanzitutto le scale Voglio vedere anche gli slab Allora facciamo così questo qua diventa tutto quanto legno non lavorato Questo lo droppiamo un attimo in terra Questi diventano tutti quanti slab Droppiamo per favore anche questo ferro Anche questo ferro un po' inutile E trasformiamo tutti quanti in slab Tanto il ferro ragazzi ne abbiamo veramente un bel po' Anzi facciamo una roba Signor Claire se ne può andare Droppiamo via questi qua E ci raccogliamo questo ferro E lo rimettiamo via Lo so sto smistando un pochino a random ragazzi Però sono disorganizzato Lo ammetto Un giorno andremo in live e sistemeremo tutte quante le casse O almeno volete che lo facciamo in live Così ogni tanto parliamo ragazzi Ditemelo che lo potremmo fare Allora qua intanto facciamo anche le fence Così testiamo un pochino tutte quante le varie cose Che si possono ottenere Qua si può fare anche delle pressure plate No non si possono fare Allora Interessante Innanzitutto iniziamo a testare per esempio Il legno Anche quello scortecciato potrebbe essere molto carino Proviamo a testarlo direttamente qua Che tanto questa zona qui si dovrebbe vedere ma solo dall'esterno E non dà molto fastidio Però ho sbagliato a piazzare questo blocco Allora riproviamo Uno due tre Ok Molto carina ragazzi la texture E Scortecciato Non si può scortecciare Peccato Peccato Però la texture è veramente super carina Quindi testiamo un attimino anche le fence Già che ci siamo Quindi prendiamo le nostre fence Che abbiamo craftato poco fa E le mettiamo direttamente qua Guardiamole per bene Allora Molto carine anche le fence scure Allora Diciamo che il legno lavorato secondo me è molto scuro Però Potrebbe essere veramente molto carino Se utilizzato bene Non so se è un misto Tra dark Dark legno Quindi legno nero E legno di dark oak Potrebbe essere carino Però Io direi Noi stiamo testando in questo momento ragazzi Solamente un test per capire un attimino Come stanno i vari colori A me detto onestamente Piace questo legno Mi piacerebbe molto Diciamo anche cambiare un pochino il mood della casa Perché è lo stesso mood che abbiamo sin dall'inizio della Big Vanilla Quindi secondo me ci potrebbe stare Cambiare anche un pochino così i colori con il legno del Big Ladro E sapete che in realtà sta molto molto bene mischiato in questo modo Proviamo a mettere anche di qua il legno Testiamo un attimino Allora Prendiamo il legno questo qua Quello cortecciato E osserviamolo Sta molto bene anche col dark oak Bellissimo Abbiamo anche il contrasto con la stone brick Fermi un attimo Mettiamo anche qua Togliamo questo stone brick Che è qua dall'arco dei tempi Dei cieli incredibili E togliamo anche le fence Sistemiamo un attimino questa roba Ritogliamo un attimino questo Che sennò facciamo confusione Piazziamolo direttamente fino in fondo E osserviamo bene Bello ragazzi Che figata Ha molto la texture della cobblestone Molto molto carino Mi piace Allora Ditemi un attimino voi ragazzi Qua sotto nei commenti Cosa ne pensate Perché ci tengo veramente molto Ok Mi piace ragazzi Allora per ora lascio qua Lascio anche a terra Tutte quante queste robe E dopo verrò a raccoglierle Ma adesso È il momento di pensare Di testare lo scherzo Che vogliamo fare Ai campioncini Stavefere Andiamo direttamente Verso casa loro Quindi prendiamoci I nostri Oh ne abbiamo pochissimi Abbiamo solo sette razzetti Ma qua non c'era un beacon Sì ma No ma li hanno Ma vedete che ragazzi Qualcuno sposta i beacon E secondo me Non sono solamente gli enderman Ma c'è qualcuno Nella bigonina Che sposta i beacon Così per scherzo Allora Rimettiamo il beacon A posto a marcia Che probabilmente Non ci avrà fatto caso Ristrimiamolo Guardate qua che bravo ragazzo Che sono Però non ho più ferro Si è riattivato da solo Ragazzi Guardate che bravo Che è il vostro Demark per il sociale Allora Demark per il sociale Qua ci vuole un bel hashtag Nei commenti Oh buongiorno Io sono schiantato Iniziamo ad adentrarci A casa di Steve Fere Io direi che già Una ventola per esempio Qua A mo' di scherzo Ci può stare Così la gente che cammina Si prende la ventata E tipo viene spostata In questo modo Non sposta tanto Solamente uno Fidatevi Se ne mettiamo uno Sopra l'altro Diventa veramente OP Soprattutto all'ingresso Della casa di Steve Fere Perché ce n'è solamente uno Quindi voglio vederli A impazzire Non riuscire a entrare in casa Perché ci sono le ventole E voglio vederla Allora Allora Andiamo In più No Mamma mia ragazzi Stavo cascando Allo scherzo O gliel'ha fatto qualcuno Mi sa che sono cascato Nello scherzo di qualcuno Mentre andavo No non ci credo No Ragazzi Sta roba qua è epica Dovrò sistemare Lo scherzo Dove diavi ne era Dove diavi ne Eccolo qua Ah interessante Interessante Mi sa che Meglio fare il giro largo Oh cacchio Dopo lo sistemiamo ragazzi Promesso Però Dicevo Quanto sarebbe Ah qua c'è un altro scherzo Ragazzi Guardate qua Questo qui È un scherzo sicuro Guardate E infatti E infatti Però mettiamo questo legno Qui Dicevo Ma qualcuno Ci ha già pensato Ah Quindi se qualcuno Ci ha già pensato A fare lo scherzo Così all'ingresso Noi potremmo farlo In realtà Per tutta quanta La casa Allora rompiamo Questo vetro viola Che tanto Ne posso mettere Quanti ne volete Perché a casa ce l'ho Poi Allora qua ci sono le ventole Che sono attivate Ma con le leve Ma chi è cattivo Le ventole con le leve Allora In più A sto punto Riempiamo questa zona Qua della casa Perché doppio ragazzi È veramente Molto molto fastidioso Uno Due Tre Quattro Da qua la gente Non ci potrà mai salire Poi Anzi facciamo una roba Gli rimettiamo anche Sul soffitto così Vediamo cosa succede Perché qua Si crea un turbigno Di aria Impossibile Che qua smattano Tutti quanti Ok Allora Non si può saltare Ok Proviamo a me No ragazzi È impossibile Allora Proviamo a vedere Se quei razzetti Riusciamo a fare qualcosa Ok Ho finito i razzetti No Ho finito i razzetti Sono un po' stupido Ragazzi Lo ammetto Ok Ok Molto molto bene Ora Ora Secondo me Dobbiamo bloccare Anche un pochino L'ingresso Così Non riescono A salire più In questo modo Facciamogli un bello scherzo Anche piazzando Dei blocchi Giusto per dar fastidio Uno e due Così tecnicamente Loro non possono neanche Saltare sopra il vetro Perché poi hanno problemi Poi Possiamo fare La stessa cosa Anche sopra qua Stiamo un po' invadendo A casa della big regina Ragazzi E anche questo È un po' il bello Degli scherzo È super divertente Come cosa E in più Direi che Anche togliendo Questa torcia qua Azzurra E mettendogli Una bella ventola Qua In questo modo Così non possono Proprio salire E anzi No però così si blocca Non mi fa impazzire Più di tanto Ragazzi Questa cosa Facciamo così Togliamolo E piazzamolo sopra A quest'altra torcia Quindi No Ho sbagliato Vieni qua Blocco Allora Mi serve Aiuto Non si capisce un tubo Muoviamoci così Allora Uno E due Ok Così a problemi Si blocca Come mi sono bloccato io Molto molto bene Ragazzi Ho sentito il rumore Di creeper Vicino a me Ma Ancora Ok Allora Io non so cosa dire ragazzi Spero che non ci siano Creeper in giro per la casa Però Secondo me Questo scherzo qui È stato super divertente Perché abbiamo in base Un po' griffato Anche a casa della big regina Però Vedremo come andrà a finire ragazzi Qua Qua dovremmo aumentare Con l'ultima ventola Ragazzi Quindi per favore Facciamo che Mettiamo anche l'ultima ventola Però L'ultima ventola Gliela mettiamo Togliamo questo E togliamo anche questo E mettiamo un blocco qua E una ventola qua Così tecnicamente Non può neanche salire Direttamente sopra Beh Allora Diciamo che siamo stati belli Che cattivelli ragazzi Però Vedremo un attimino Come andrà a finire Questo super scherzo Noi ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Mi raccomando Vi invito a scegliere Uno dei due video qua davanti Vi ricordo che anche oggi C'è un nuovo episodio Della pixamon sul mio canale Quindi Non perdetevelo Perché c'entra anche lì La big regina Da Marco è tutto ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao